La speranza e la vita oltre la guerra passano anche per l'Aquila all'ospedale San Salvatore nel reparto di ginecologia e ostetricia diretto dal professor Maurizio Guido. È nata la prima bimbo ucraina, venuta alla luce tra venerdì e sabato. Si chiama Slata, figlia di una donna in fuga dalla guerra. Mamma e piccola stanno bene. Un parto naturale condotto dall'ostetrica Claudia Carosi, dalla ginecologa e l'area Colagrande e dalla neonatologa Cecilia Di Natale. La donna è arrivata circa un mese fa in città dopo un viaggio lungo e complesso ma il personale del reparto l'ha subito assistita in modo amorevole ad aiutare la giovane donna, la mamma che parla italiano e che ha potuto aiutare il personale mentre il compagno è rimasto in Ucraina. Il reparto ha anche in carico un'altra donna ucraina in gravidanza al momento che dovrebbe partorire a breve. Noi ci siamo trovati come tutto il mondo all'improvviso con un problema che non immaginavamo essendo ormai abituati a gestire ai noi da più di due anni i problemi che non immaginavamo di avere. Abbiamo accolto queste due ragazze che sono arrivate da noi qualche settimana fa, direi circa un mese fa, erano quasi a termine di gravidanza, ci siamo consultati con la direzione aziendale perché volevamo essere certi di non incappare in problematiche burocratiche che per fortuna non ci sono state e quindi abbiamo fatto tutto quello che era nel nostro possesso per essere il più accoglienti possibile e per tranquillizzare queste ragazze perché queste ragazze chiaramente hanno un vissuto particolarmente impegnativo. La prima ha partorito due giorni fa, oggi potrebbe già andare a casa ma preferiamo tenerla con noi qualche altro giorno per essere più tranquilli noi e anche più tranquilla lei e l'altra ragazza partorirà, credo, tra poco. Non facciamo niente di particolare, non siamo né dei supereroi né facciamo delle cose diverse rispetto a quello che facciamo tutti i giorni e che immaginare che in un momento come questo avere magari il partner che sta combattendo ed essere sballottati all'improvviso in un altro paese con un'altra lingua non deve essere particolarmente semplice quindi per quanto è possibile cerchiamo di essere d'aiuto. Tutto qui. Tutto qui.